Sesso Sokolov, una bellissima maratona vinta dalla Lube. Un nuovo anno iniziato molto tosto, molto pesante per noi, però è sempre bello vincere, sempre bello vincere anche a casa quando giochi davanti ai nostri tifosi e anche, come avete visto oggi Verona ha tirato tantissimo, è lottato fino all'ultimo punto e ci ha messo sotto pressione e ci ha messo in gran difficoltà, però alla fine noi, ma anche se abbiamo sofferto, siamo riusciti a uscire da situazioni veramente difficili e vincere le partite. Sottometri tra Teccasi, Bulgaro, le siete date e ridate di santa ragione. Sì, veramente sono stato molto soddisfatto di giocare contro lui perché da tanto tempo che non giochiamo insieme, anche uno contro l'altro. È veramente un piacere vederlo di tornare in Italia e di giocare perché lui è un giocatore veramente di altissimo livello e secondo me ce l'ha ancora tanto da far vedere. Abbiamo visto il ritorno di due campioni, Kasischi da una parte e anche Giri Kovar per la Lube. Sì, io sono molto soddisfatto che Giri è tornato, è un giocatore che può dare veramente una grossissima mano, lo ha fatto vedere tantissime volte anche in precedenti, quindi è ben tornato Giri e siamo molto soddisfatti di questo. Cosa ci prendiamo di questa partita? Di cosa non? Cosa ci prendiamo di questa partita? Due punti e secondo me dobbiamo prendere un sorriso e una soddisfazione perché siamo stati sotto 2-1 però siamo riusciti di tornare, di giocare e di vincere, di lottare fino alla fine e questo lo dobbiamo prendere. È veramente un buon segno.